Il weekend regbistico abruzzese non offre molte occasioni per gli appassionati della palla ovale. L'Aquila Rugby Club infatti osserverà un turno di pausa insieme a tutto il campionato d'eccellenza. Questo stop arriva come una manna dal cielo in questo periodo nero. Mercier infatti potrà approfittare della pausa per mettere a posto un paio di elementi che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti, come la mischia chiusa e l'occupazione degli spazi in fase difensiva. Per la Serie A, la Gran Sasso di Pierpaolo Rotiglio si trasferisce in terra toscana, Firenze per la precisione, dove affronterà i Medicei, secondi in classifica e in fase positiva. L'obiettivo di questa fase, il terzo posto, che significa salvezza matematica già a dicembre, è ancora a portata di mano, ma servono punti pesanti e la formazione dei grigiorossi è fortemente rimaneggiata. Rotiglio dovrà fare meno, tra gli altri, di giocatori del calibro di Vaggi, Parisse, Mannucci, Lorenzetti e Lofrese. In Serie B, l'Avezzano ospita la squadra cadetta della Capitolina, avversario tutt'altro che irresistibile. Per salvarsi i marsicani dovranno vincere anche lo scontro diretto con il Colleferro, ma cominciare a mettere in cassa qualche punto in più potrebbe facilitare non poco la marcia salvezza. Più morbida la situazione del Paganica, vincendo domenica Colleferro, i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il secondo posto in classifica, portandosi ad una distanza ragguardevole dal quarto posto. In Serie C, Girone G, la polisportiva all'Aquila Rugby ospita in casa il Tivoli, mentre il Cus dovrà vedersela con il Rieti in terra laziale. Nel Girone E, la squadra cadetta della Gran Sasso ospiterà la cenerentola del Girone, il San Benedetto.